ciao facciamoci questa torta veloce veloce la classica ricetta sette vasetti allora preparo tre uova uova freschissime di galline allevate a terra e due vasetti di zucchero e sbatto con la frusta elettrica continuo a sbattere fino a che le uova non diventano belle spumose intanto preparato i vasetti con gli ingredienti questa torta è molto semplice da preparare e si usano i vasetti anche perché magari ci possiamo trovare in un posto che so al mare in una casa al mare o in montagna e non avere la bilancia a portata di mano invece con i vasetti si fa presto si possono dosare gli ingredienti bene a questo punto posso mettere i liquidi l'olio io ho usato l'olio d'oliva ma voi se volete potete usare l'olio di semi io il mio olio e preferisco usare questo ok poi metto lo yogurt se mettete l'olio di semi potete anche quasi riempire il vasetto io non messo di meno perché l'olio d'oliva è abbastanza forte ok giro ancora un pochino il lievito lo mettiamo per ultimo e adesso metteremo tre vasetti di farina io l'ho setacciata prima l'ho messa nei vasetti per farvi vedere altrimenti se avete il passino quello per la farina setacciate e mettete direttamente la farina setacciata però comunque tre vasetti di farina ok giro un pochino e poi rimane il lievito o non ho messo vaniglia non ho messo niente perché il lievito è vanigliato poi essendoci il sapore del cocco va bene così ci siamo quasi faccio girare ancora un pochino nel frattempo ho acceso il forno a 100 170 gradi ho preparato una tortiera farò una torta però poi vi faccio vedere anche una ciambella ho fatto due impasti proprio per farvi per farvi vedere tutte e due le cose ho preparato una tortiera questa da 22 cm ho messo sotto un disco di carta forno e poi ho preparato anche lo stampo il ciambellone che da 25 l'ho imburrato e infarinato bene non ci resta che infornare presto a poco ci ha voluto una mezz'oretta mezz'ora o poco di più quando ho visto che era bello colorito ho spento il forno l'ho lasciato un pochino dentro ed eccolo pronto adesso non mi resta che aprirlo ed assaggiarlo bene amici grazie per la visione ci vediamo al prossimo video ciao ciao